Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con i miei consigli sui vendors della torre di questa settimana. Prima di iniziare vi ricordo che la formula che adotterò sarà la stessa di settimana scorsa dove per le armature mi limiterò a dirvi soltanto le migliori quindi quelle con una statistica al massimo e l'altra quasi al massimo. Escluderò tutte quelle che hanno una statistica buona ma l'altra orrenda per intenderci. Ad ogni modo iniziando come al solito dalle armi, dalla nuova monarchia nulla di interessante. Dal crogiolo troviamo come ogni settimana il palindromo che questa settimana avrà soltanto un perk realmente buono ma di fatto sono le statistiche di base essere ottime e lo rendono a tutti gli effetti il migliore cannone portatile acquistabile. I perk in ogni caso sono terzo occhio, canna rinforzata e rimborso parziale. Diciamo che in assenza di un cannone portatile migliore questo senza dubbio è ottimo. Ben lontano però ad essere il palindromo migliore. Poi troviamo l'ogni nuovo giorno il fucile a fusione che monterà cambio in calzante, bobine accelerate e rifornimento che con la perce alle armi speciali potrebbe essere un ottimo perk. Poi troviamo l'orizzonte dell'eventualità il cecchino che monterà libellula e caricatore tombale quindi con un caricatore più ampio ottimo per il pve ed infine troviamo la neutralità caotica mitragliatrice che monterà telaio rinforzato, persistenza ed eventualmente compensatore lineare, pochi colpi ma molto stabile e precisa. Proseguendo dall'avanguardia troviamo il colpo partico, fucile a impulsi che monterà controbilanciamento, calibro ristretto e fuori legge, un'ottima terna di perk. L'avvocato dell'angelo, un fucile da ricognizione con mano celata, equilibrio perfetto e momento zen, anche qui ottimi perk per un ricognizione ed infine il fuoco e paglia, una sidearm con ricarica reattiva, proiettili a calibro elevato e momento zen. Nell'orbita morta non troviamo nulla mentre dal culto guerra futura troviamo la graffiata, fucile da ricognizione con mano celata, triplo colpo o calibro ristretto e caricatore esteso ed infine troviamo il grido di guerra, un lanciarazzi con tracciamento, treppiede ed esploratore da campo. Ottimo per il pve e ottimo anche per il pvp. Passando alle armature, incominciando dall'oratore, questa settimana ha portato davvero degli ottimi pezzi. Per il cacciatore, una corazza di classe con la forza al massimo e la disciplina quasi al massimo e un'altra con l'intelletto al massimo e la disciplina sempre quasi al massimo, mentre per il titano, una con l'intelletto al massimo e la disciplina quasi al massimo e una con l'intelletto al massimo e la forza quasi al massimo. Proseguendo poi con il cacciatore, dalla nuova monarchia, soltanto uno spettro col massimo di intelletto e quasi il massimo di disciplina. Anche dal crogiolo uno spettro, questa volta però con massimo di disciplina e quasi al massimo di intelletto. Dall'avanguardia ben due spettri, uno massimo intelletto e quasi al massimo forza e uno massimo forza e quasi al massimo disciplina, mentre dall'orbita morta e dal culto guerra futura nulla di interessante. Passando allo stregone, nulla dalla nuova monarchia e nulla dal culto guerra futura. Mentre dal crogiolo troviamo una corazza di classe massimo intelletto e quasi al massimo forza e un casco con sia l'intelletto che la forza quasi al massimo, dall'avanguardia troviamo un torace con massimo intelletto e quasi il massimo disciplina e un casco con sia l'intelletto che la disciplina quasi al massimo. Infine dall'orbita morta troviamo una corazza di classe con la forza al massimo e la disciplina quasi al massimo. Arrivando infine al titano non troviamo nulla di interessante dalla nuova monarchia, dal crogiolo e dal culto guerra futura, mentre dall'avanguardia troviamo soltanto una corazza di classe con sia l'intelletto che la disciplina al massimo e dall'orbita morta soltanto un paio di guanti con l'intelletto al massimo e la forza quasi al massimo. E per concludere arrivando nel tempio del ferro e parlando degli artefatti questa settimana troviamo il ricordo di Timur con intelletto e forza, il ricordo di Radegast con disciplina e forza e il ricordo di Galeon anch'esso con disciplina e forza. Dunque ragazzi per quanto riguarda i miei consigli sui vendors di questa settimana è tutto. Come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero il video sia stato di vostro interesse e vostro gradimento, vi invito a lasciarmi il vostro feedback e noi ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!